Salve, sono Silvia Camilli e per il concorso di pittura ritratti contemporanei 2018 presento l'opera Orizzonti. La tecnica è una tecnica mista, matita, pastello e acrilico su cartoncino. Il soggetto dell'opera è una figura femminile da una impostazione piuttosto statica, caratterizzata da uno sguardo intenso e da un vestito trasparente e dai colori tenui. Lo sguardo non si posa sull'osservatore ma al di là, appunto sull'orizzonte, su un punto sull'orizzonte. Lo sfondo è uno sfondo azzurro che rappresenta ovunque possibile e questa staticità però è resa dinamica da questo colpo di vento che fa sollevare il vestito e come la vita ci rende nudi, infatti si intravede una parte del seno della figura, ma lei guarda soffisso sull'orizzonte, ha uno sguardo di chissà quali sono i propri desideri, appunto è un orizzonte di desideri, ognuno di noi cerca di raggiungere quei desideri, ecco appunto perché orizzonti.